Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come sapere se puoi passare a Windows 11 ovviamente se hai requisiti per passare al nuovo sistema operativo quindi in questo caso se tu vai sulla barra della ricerca tu lo tieni proprio integrato nel sistema si chiama controllo integrità PC se non lo tieni in questo software puoi direttamente scaricarlo su questo sito io ovviamente ho appena scritto Windows PC Health Check e ne ho trovati veramente tantissimi e li puoi direttamente scaricare su qualunque sito però io sono certo che lo tieni già sul tuo sistema operativo Windows 10 quindi ovviamente se andiamo a cliccare sul controllo integrità PC così non andremo a perdere il nostro tempo a scaricare Windows 11, 3 ore di installazione poi vai a vedere non si è installato perché non hai i requisiti quindi suggerimenti su integrità del PC quindi integrità del PC in breve, controlla ora ed eccolo qua questo PC soddisfa i requisiti di Windows 11 quindi visualizza tutti i risultati questi sono i risultati più importanti quindi questo PC supporta l'avvio protetto il security boot, cosa sarebbe? io in alto a destra in passato ci ho fatto un tutorial su come attivare il security boot ovviamente se hai l'avvio protetto sul BIOS lo puoi attivare senza problemi c'è anche la guida in alto a destra nelle schede in cui faccio vedere come abilitarlo TPM 2.0 che sarebbe una protezione per il processore o una sicurezza per il tuo computer bisogna abilitarlo io in passato ci ho fatto una guida su come abilitarlo questo TPM 2.0 ormai lo chiede su alcuni giochi come Valorant anche su quello ho fatto un tutorial su come abilitarlo il processore supportato per Windows 11 io ho un AMD Ryzen 5 3600 con 6 core la RAM ne ho 16 ne servono almeno 4 GB di memoria di sistema poi il disco di sistema è 64 GB superiore e il processore dispone di 2 o più core io ho 6 core sul mio processore e ho tutti i requisiti c'è proprio tutto per installare il mio sistema operativo Windows 11 ed eccoli qua un programma veramente fatto bene che ti dice tutto dice anche la capacità della memoria quindi devo fare anche un aggiornamento quindi se questo video ti è stato utilissimo su come vedere se puoi passare a Windows 11 tutti i requisiti di sistema iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao